Maggiore condivisione delle scelte e discontinuità del vecchio sistema. Questa è in sintesi le richieste che ha fatto il consigliere comunale Caccioni, uno dei dissidenti, nell'incontro di ieri sera con il sindaco. Sì, un incontro durato molto, parecchio, in cui tutti noi consiglieri abbiamo appunto avuto un faccia a faccia, ci siamo dette le cose così come stanno. La sua posizione qual è alla luce dell'incontro di ieri, alla luce del ritiro, delle dimissioni del sindaco? Sono possibilista, ci sono dei presupposti per poter ridare fiducia a questa maggioranza. Ripeto, dipende dal sindaco. Il sindaco aveva chiesto di prendersi 24 ore per poter riflettere. È normale che se ha ritirato le dimissioni, sicuramente è dovuto anche all'allarme dell'acqua che fino a stanotte non era più potabile, adesso invece è tornata potabile. Ma sicuramente per ritirare le dimissioni il sindaco ha valutato le nostre richieste, le mie richieste e quindi penso che accettandole, ripeto, ci sono dei presupposti per poter andare avanti, per dare ancora fiducia a questa maggioranza fino alla fine del mandato, il 2019. Lei ha anche chiesto di ridurre la giunta a 6? Sì, praticamente. Io ho detto al sindaco che darò la mia chance per un proseguo del mandato, solo se ridurrà la giunta a 6, possibilmente anche con qualche volto nuovo, perché ritengo che ci sono validissimi consiglieri con una certa esperienza e soprattutto, ho chiesto anche la delega alla ricostruzione, la deve avere il sindaco. Lei resta fuori da Futuroin? Io resto fuori, sì, però continuo a dare il mio sostegno a questa maggioranza, ripeto, se il sindaco girerà bene il pallino della partita. Tutti i consiglieri hanno chiesto al sindaco, a parte una maggiore condivisione nelle scelte, ma proprio un contatto più diretto tra primo cittadino e consiglieri, tutti. Sì, abbiamo stabilito che ci dovrà essere questo contatto diretto e ci dovranno stare più riunioni di maggioranza, non perché ce ne siano state poche, per carità, dove praticamente ci sarà questo faccia a faccia anche cattivo con noi consiglieri ed il sindaco, evitando interferenze dei cosiddetti capi bastone.